Armando, buongiorno, grazie per questa breve intervista che fornisco a tutti quelli che parteciperanno o comunque che verranno a vedere sulla Toscana in Boca, vi saremo noi a partecipare sotto qualche aspetto e niente vi dico il piatto, il piatto nostro che porteremo e faremo gustare a tutti i presenti e arriviamo in mente, anzi siamo sicuri di questo, che vi faremo delle cantar di pesce espresse, troveremo tutti i pesci della costa toscana, che troveremo in quei giorni che ci porteranno i nostri fornitori, i nostri pescatori, tra virgolette, giorno per giorno guarderemo lì, quei giorni specifici appunto quale pesce, se dal branzino all'orata a una cicada di mare, chi lo sa, ma cosa inventeremo? Tartalizziamo tutto e tutto lì davanti ai vostri occhi, quello che ci piacerà fare a noi e quello che spero vi faccia a voi gustare. Un saluto a tutti e alla Toscana in Boca, arrivederci! Grazie a tutti!